Si, si, si sta davanti e non ritorna mai indietro perché non ci sono stanti miracoli in cui credo si, bel paese di pretese e hanno zero merda chi lo sente poi ci crede davvero è cambiato tutto il marcio distrutto di brutto ascolta la mano monca che dà la svolta che mi accomuna che è morto per sempre ma in prima linea c'è uno spettro che risveglia la mente indecenti passando alle anze nei convegni presaggine, messaggi e segni mi guardano strano e poi mi danno del passo se dico che per me non è cambiato un bel cazzo faccio quello che posso ma non mi diverte dire che un porco, un porco è stare a placcia con certe dando un morso e sul rimozzo mentre il porco mena io di corsa a dargli un calcio alla schiena non mendico, vendico dietro il rumore perché tutta ad un trasporta via le persone mie dei buratini non prevedi le mosse chi mi mette in forse mi rimette in forse chi mi mette in forse mi rimette in forse e se mi mette in forse mi rimette in forse überzeugt! Grazie a tutti